Tra i comuni colpiti nel Terramano, soprattutto quello di Montorio e Alvomano, qual è la situazione? Sì, il Comune di Montorio con il sisma il 24 agosto, nel Comune di Montorio si sono aggravati ulteriormente i danni. Noi già eravamo impegnati con la ricostruzione, abbiamo approvato i piani a luglio e ad agosto proprio scorso. Adesso purtroppo si viene a verificare un aggravamento importante, soprattutto nel centro storico di Montorio. Noi da giorni stiamo dicendo queste cose sia alla protezione civile che alla Regione. Speriamo insomma ci rispondano e soprattutto che facciano subito una normativa che vada ad incidere velocemente sulla sovrapposizione dei due sismi. Con i sopralluoghi che stiamo portando avanti, soprattutto all'esterno ma anche al centro storico, aumentano di giorno in giorno gli sfollati. Perché Montorio è uno di quei paesi dove ci sono diversi sfollati, quindi la situazione effettivamente si aggrava sempre di più. Ci sono edifici che prima erano agibili, adesso non lo sono più. Ci sono edifici che non avevano esito perché non erano stati svolti i sopralluoghi. Oggi sono insomma in condizioni abbastanza preoccupanti. Quindi credo che si debba intervenire subito e lo si debba fare in modo tale da snellire un po' quella che è la burocrazia e che ingessa spesso queste situazioni. Quindi intervenire subito, fare subito una normativa e far partire da subito i lavori che possiamo far partire del sisma del 2009 e iniziare a certificare quelli che ci sono stati, quindi unire le due cose.